Bravissimi bambini, siete bravissimi. Voglio sapere quanti bambini vanno a correre di voi. Quanti bambini corrono? Ok, meno male. Quanti bambini giocano a calcio? Ok. E a pallavolo? Palla cadestro? E chi va a sciare? Molto bene. Allora tutti a sciare con me. Allora, sapete perché vi diamo questa borraccia bambini? Lo sapete vero? Sì, non ci credo. Perché? Bravissimi. Perché quando andiamo a camminare a passeggio non si buttano le cartacce per strada, le bottigliette, si mettono nel cestino. Allora siccome il sindaco è proprio bravo con gli altri sindaci, hanno deciso che questa borraccia vi farà compagnia. Perché sapete una cosa bella qual è? Che l'acqua che mettete qua dentro è l'acqua del sindaco ed è gratis e i vostri genitori saranno felici. Giusto sindaco?